3, 2, 1 Aiutaci, perché non vede l'impostazione della griglia? Costo Wow, buonasera, buonasera a tutti Io sono l'intervistatore e qui ho il piacere di avere con me Accorciabro Buonasera Buonasera Buonasera, questa parte va tagliata Accorciabro Va tagliata per forza Bene, ma anche le altre parti sicuramente Allora, intanto grazie Allora io Accorciabro faccio subito un ringraziamento a tutti i moderatori Alle persone che in questo momento dedicano il loro tempo affinché questa live sia scorrevole E i messaggi importanti vengano messi in evidenza Ok? Grazie, grazie moderatori Allora, io intanto devo sentire un attimo Aspetta un attimo, alzo le cuffie Alzo un attimo le cuffie Perfetto Eccomi qua Allora Come mi senti? Bene? Mi senti bene? Io perfetto Perfetto Ti sento bene anche io Ora attacco le cuffie un po' meglio Allora, intanto buonasera a tutti Io sono Bob Gas, Simone Da circa dal 2020 faccio interviste a chi se la sente di parlare della sua passione oppure a persone come Accorciabro che donano il proprio tempo a farsi intervistare da me Intanto ho subito una domanda Ah, una domanda c'è subita Da FrolliFrolli Accorciabro Ma i video che accorci li guardi in due per? Sì, dipende in realtà Dipende di quando le guardo Quando sono in macchina per esempio non le guardo in due per Quando sto lavorando, perché sì, guardo le story time anche mentre sto lavorando Le metto in due per Quindi è proprio a caso Dipende anche che tipo di video è Perché ci sono tanti che sono molto lunghi Però partiamo con ordine Una domanda che avevo piacere farti era Come ti è venuta l'idea Non di fare Accorciabro Ma di entrare nei social? Questa è una bellissima domanda Perché stupirò sicuramente tutti Ma il mio primo account su un social della mia vita è stato questo account TikTok un mesetto fa Non sono forse per le mie particolarità una persona portata diciamo ai social Però è stata la prima volta Per rispondere alla domanda è partito tutto da una sfida, diciamo un gioco ecco Da un gioco con mio fratello Perché il trend stava conquistando il mondo in realtà È un trend che esiste da circa due anni in Stati Uniti E come in tanti l'hanno fatto notare Ci sono tanti Accorciabro in tanti paesi Diciamo che in Italia la via era libera E mi sono detto ecco questo sarebbe un personaggio che mi andrebbe perfettamente E quindi niente è partito come un gioco poi è diventato una follia Ecco perché Un personaggio che mi andrebbe perfettamente E quindi niente è partito come un gioco poi è diventato una follia Ecco perché Perché ci sono tanti commenti e non vorrei perdermene Qui dicono, guarda c'è una domanda È vero che alcuni influencer ti hanno intimato a non accorciare i propri video? Uno, sì Sì, 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 mi ha intimato Non faremo il nome perché neanche per fare pubblicità E poi non è che siamo dei delatori Ma penso che tutti lo sappiano Già Sì, mi ha intimato a non fare video È una cosa folle Perché alla fine non è una cosa Né equa né legale Però sì, uno, soltanto uno Allora qui stanno dicendo che si blocca la live Sento un attimo i moderatori se hanno questa impressione anche loro Oppure possiamo E magari è un problema di connessione della persona Fatemi sapere Così proseguiamo con le domande Se la live anche a voi Ora va Si era bloccata Ah, perfetto Allora forse qualche Qualche Non lo so Allora Altra domanda che ti faccio io E intanto I moderatori tanto sanno Che mi devono mettere in evidenza La domanda Una domanda un pochino personale Accorciabro Mi puoi rispondere come no Nel senso Cosa pensano a casa I tuoi familiari Di questa avventura Appena iniziata Allora Bene La prendono bene Ecco Mi prende tutto il mio Cioè Vabbè Mi prende abbastanza tempo A dire la verità Sembro un po' Sembro un po' Uno zombie Quello che non sono mai stato Ho avuto queste Queste Rimarche Diciamo di Dei familiari Però Sì La prendono bene Dai Vedono che mi diverto E riesco a fare A portare avanti qualcosa di nuovo Ciò che non è così facile Nella mia condizione Però Sì dai La prendono bene Ecco Hai parlato di Di condizione No? Perché Hai parlato di condizione? Vabbè Non è un segreto Non è più un segreto Ormai Abbiamo scatenato l'inferno Con Con Il fatto che Sono una persona autistica Senza Senza Disturbi Di linguaggio Senza disturbi Mentali O Cioè Fortunatamente Disturbi pesanti Ecco Però Diciamo che è una cosa che Mi pesa anche al quotidiano Ecco In queste In questa tipologia di autismo Non è Non è così semplice Portare avanti Portare avanti Dei progetti Che vanno Al di fuori Dei propri interessi Ecco Ti volevo chiedere A proposito di questo Ti sta aiutando Questa Questa nuova avventura Che stai vivendo A Diciamo A Come Se si può dire Non lo so Permettimi Non vorrei essere offensivo Ad abbassare Questo livello Che hai Ad abbassare No Non si abbassa Non è Proprio una costituzione Neurologica Quindi Abbassare Curare Tutto quello che ho sentito Non esiste Perfetto Però Mi Costringe Ecco Siamo molto Nella costrizione Mi costringe A Mi costringe A rimanere concentrato Su appunto Un argomento Che Non mi interessa Del tutto Non dico che Finirà per interessarmi Perché non è così Però Sì Diciamo che è un po' Una sfida personale Una lotta Quotidiana Ecco C'è un C'è un utente Uno due tre quattro Che ha detto Una bella cosa Fidati di te Sei forte Secondo me Lo sai Che ti devi fidare Del Del tuo istinto No Quello che vuoi fare E quello che è Allora Io Vado avanti Con le domande Naturalmente Come ci siamo Conosciuti Io E Accorciabro L'ho conosciuto Come Ecco la famosa Tazza Del Accorciabro Come molti di voi Mi è arrivato Nei per te Non ho capito Lì per lì Che cosa faceva Due minuti Tre Cioè Lì per lì Onestamente Mi hai destabilizzato Perché non Non capivo Ma è bello Questo Guarda Valeria Colle Dice Tranquillo Non interessa Neppure a noi Ma tu Ci aiuti A salvarci Effettivamente È una bella Con la tazza Con la tazza Stava accorciando La live E quindi Diciamo che Ho contattato A Accorciabro Accorciabro L'ho contattato Per messaggio Lui Molto gentilmente Mi ha detto Guarda Mandami una mail E Ne parliamo Poi Per caso L'altra sera È entrato In una mia live In un'altra intervista E Lo posso dire Accorciabro Mi ha dato il suo numero E mi chiama Bro In privato E a me Io ho già vinto Nel senso È una persona Che Di una Umiltà Unica È una bravissima Persona Perché ci ho parlato Molto anche Al telecom Scusami Ma Io ho sentito Esattamente la stessa cosa È molto difficile Cioè Io faccio molto fatica Con le emozioni Penso si sia già visto Nei video Ok Perché la faccia Che C'è La faccia che vi fa tanto ridere In realtà è la faccia che ho Al quotidiano È molto difficile Esprimere le emozioni Però E quindi È difficile anche risentirle Ma Con te Ho avuto Sta cosa Che mi capita Raramente Forse anche per la tua Grande umiltà È difficile Oggi Trovare Cioè Non vorrei dire Che mi ritengo Umile Però Un minimo Sì dai Per la tua Grande umiltà E il tuo approccio Che è stato Molto diverso Degli altri Ti ho dato Questa possibilità Ho visto una mano E ho preso Una mano Ecco Volevo aggiungere Aggiungere questo 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 Guarda Mi Mi emoziona Sono Grande E grosso Con la barba bianca E forse la barba bianca Anche Mi fa Mi fa Tanto Tanto piacere È sempre Stato quello Che io volevo Trasmettere Con le mie interviste Fare sì Nel personale Ma non Invadere Completamente La bolla Di prossimità Questa bolla Di protezione Che ci creiamo Noi Io Arrivo sempre In punta di piedi Diciamo Che È bellissimo Bob Fai a tutti Lo stesso effetto Grazie Grazie Allora Però c'è Ma nella pratica Cosa Ah va bene Allora Una cosa C'è una domanda Che era scorsa Poco fa Però tanti messaggi fa Come scegli I I Format I target Per fare Accorcia Allora Inizialmente Andavo A pescare io Ok È stato Anche una sfida Questo Perché Non conoscendo Nessuno Nel mondo Dei social Per me Sono tutte scoperte Guarda che Guarda caso Neanche Cioè Al rischio Di passare Per un ignorante Ma non sapevo Neanche Che faccia Avesse Chiara Ferragni Quindi Sono proprio Ecco E quindi Sono andato A pesca E quindi Scorreva Cioè Quello che avevo Nei per te Diciamo Diciamo Con un gancio Interessante Ma oggi In realtà Accorcia Bro Non sono io Io sono Soltanto Accorcia Bro La community Che va A ricerca Per me Che mi tagga Sotto i video Che mi manda Il tutto E sono Ovviamente I creators Anche se Qualcuno È stato un po' Infastidito Dal mio intervento Però La maggior parte No Io sono soltanto Un intermediario Quindi Lo fa La community Il lavoro Ecco Quando vedo Perché ho Centinaia Di Per non dire Migliaia Di E' diventato Una prassi Per tutti Cioè Su tutti i prolissi Di taggare Accorcia Bro Quando mi Esce Due Tre Quattro Dieci volte Lo stesso video Allora a questo punto Mi vedo Ad interessare Ma devo dire Anche che Il mio Lavoro Di Accorcia Bro Non si limita Tanto a pubblicare Questi video Che pubblico Perché Mi capita Anche di guardare Delle story time Di aver perso Il tempo Per voi Che non pubblicherò Mai Ecco Però l'ho guardato Lo stesso Però l'ho guardato Uguale Allora C'è una domanda Di Iris Chissà Conoscendoli Via via Che idea Ti sei fatto Di quelli che fai Accorcia Bro Non ho capito La domanda Scusami Cioè Praticamente Che idea Ti sei fatto Conoscendo Le persone A cui vai Accorciare Il video Che idea Ti sei fatto Di questi A cui Accorci Il video Allora La mia Ho diversi limiti Uno È di non dare mai Opinioni personali Anche perché potrei Anche chiudere L'account domani A sto punto Capirà chi può Non risponderò Alla domanda Perché non Sono qua Per dare un parere Io accorcio E basta Poi c'è Silvia Che dice Sì Però le tue Espressioni facciali Sono disarmanti Ci ha spiegato Che Sì capisco Viene In questo caso È una forza Non lo è Il quotidiano Sicuramente Ma in questo In questo caso Sì Nel senso Che Effettivamente Riesco Nonostante Io abbia provato Di fare il contrario A non fare A non trasmettere Le emozioni Perché in realtà Sono molto difficili Per me le emozioni Cioè È difficile risentirle Quindi Ancora di più Esprimerle Basta Ecco Perfetto Sì giustamente Mi stanno dicendo Solo noi Possiamo dare opinioni E non sempre buone Intanto Saluta Alessandra Bra Ma questo riguarda voi Effettivamente Io mi disoccio Di qualsiasi Sì 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 Di qualsiasi Commento Che sia giudicante Ecco Eh questo potrebbe essere Una cosa importante Paolo Liberati Dice no Dice Fa un'affermazione Vogliamo un'accorciabro Per ogni media Utile E necessario Cioè Anche il telegiornale Delle volte Ci vorrebbe un'accorciabro No Che non ci faccia E guarda che questo Fa parte anche delle mie idee Non Cioè Non sarei un bugiardo Dicendo che non ho mai guardato Un telegiornale Un telegiornale In vita mia Però Si conta Sulle dita di una mano Ecco Però Sì Sarebbe Un'ottima idea Di sviluppo Non su questo canale Che rimarrà Sicuramente un canale Di divertimento Però Ottima idea Di sviluppo Allora Allora Un'altra domanda Grazie per non buttare via Minuti della mia vita Dio Allora C'è una domanda Ancora Diciamo Non personale Però In proiezione Di un futuro Dove pensi Ti possa portare Oppure Se hai a mente Hai già a mente Un nuovo format Naturalmente Non ti chiedo Quale sarà Ma pensi Che dove ti possa portare Oppure C'è già qualcosa A cui stai lavorando Questa cosa È un omaggio Un regalo Grazie Risponderò Senza rispondere Ho difficoltà A gestire Ciò che sta accadendo Perché In realtà Sono molto Sollecitato Da Da marchi Eccetera Non so bene Come gestirla Fortunatamente Mi sto circondando Di Persone Più pro di me Nel Nel settore Questa è la prima cosa Quindi per adesso Faccio fatica Anche a rispondere Alle email Vedi E anche a te Ho messo un po' di tempo Perché Per me è tutta una cosa Wow Fuori dal normale E quando sono fuori Della comfort zone Non va bene Però Vabbè Prendo su di me E questa è la prima cosa La seconda cosa È che Con gli altri Accorciabro Degli altri paesi Non tutti Ma con tanti Siamo tutti in contatto Quindi esiste un gruppo Whatsapp Privato Degli accorciabro Di altri paesi Siamo 6-7 Ok Quindi per rispondere A tutti Tutti Haters Che dicono Si hai copiato Di qua Lui ti ha copiato No Nessuno ha copiato Niente La paternità Del format È una È di Heytune E poi siamo tutti Degli importatori Però siamo quasi tutti In contatto Questo Per rispondere Senza rispondere Perfetto C'è Massimo Che ti chiede Quando hai pubblicato Il primo video L'ho pubblicato Mi sembra Il 4 febbraio Il 24 Allora Fabio Dice Magari ripetiamo Abbi pazienza Ma magari Si collegano Adesso Come nasce Questa idea L'altra sera In live Nella mia live Con Orazio Hai spiegato Come Come Questa idea Non è partita Da te No Assolutamente no 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 In realtà È Forse uno dei pochi Che riuscivo a seguire Come Non posso dire Influencer Però come Come si chiamano Cioè Creature Eh come creator Ecco scusami È partita Dal Da Heytune In Stati Uniti Mi piaceva molto Questo format Che andava al dunque In realtà È una cosa Quotidiana per me Non riesco a tenere L'attenzione Con le persone Quando iniziano ad essere Prolissi Nella vita reale E quindi Veramente Quando Ho visto Che stava prendendo Questo giro Mondiale Perché In realtà Forse si sente Io sono italiano Dirò una cosa Che ancora non ho detto Sono italiano Di cittadinanza Mia mamma è italiana Vivo in Italia Però l'italiano Non è la mia prima lingua Io sono cresciuto In Francia Ho studiato in Francia Però La mamma è italiana E adesso Vivi in Italia E Quindi Vedendo un po' Il giro Che stava prendendo Questo Questo trend Fra Germania Turchia Corea Francia Spagna Avendo facilità Con le lingue Quindi capendo Parlo sei lingue Quindi ecco Ho visto Ho visto Questa opportunità Di giocare Insomma Giocare questa carta Su un mondo Che per me È completamente strano E quindi Niente È arrivato così Poi è una follia Tutto il resto È una follia Tutto il resto L'avete fatto voi Il resto Il resto L'ha fatto chi Giustamente Ti segue E poi c'era Un'altra domanda Che mi è apparsa Nel rullo Perdonami Accorciabro Ti Allora c'è Un Cogito Rego Boh Vabbè Questo In realtà Credo che tu Trasmetta Molte emozioni E in questo format Lo si capisce Dagli occhi Questa è una bella Una bella affermazione Che fa questo Ragazzo Questa Ah C'è Orlando Orlando Lascio fare a te Perché non riesco a leggere E guardarti allo stesso tempo No no ma Leggo io Cosa beve in tazza A corciabro Allora Anche questo è stato Svelato Diciamo nell'intervista Di SDL Che è stata pubblicata Venerdì sera Bevo Sciroppo di tamarindo Ma sentite Pochissimo sciroppo di tamarindo Perché mi hanno detto Sì ora ti viene la diabeta Eccetera Con tutto sto zucchero E senza zucchero E Ne metto pochissimo Per avere questa acidità Mi piace tanto l'acidità E l'amarezza Pensate che A corciabro È stato intervistato Da SDL E ora è con Bob Gass Cioè pensiamo La follia dei social Dove Dove può arrivare La bellezza E la follia No A corciabro Perché In questo modo Ti ripeto Mi hai dato Una grande opportunità Di Diciamo Farti delle domande Credo Non ho visto L'altra intervista Proprio per non Farmi Delle idee sbagliate Quindi Non l'ho guardata apposta Per Per non farti Probabilmente Ti farò le stesse domande Però Volevo essere Diciamo Diversa Il pubblico Non è lo stesso Sicuramente Il pubblico Non è lo stesso Io direi Aspetta Vabbè Illuminare il rumore Io che è costretto A vedere Qui dice Valeria Beve per dimenticare Tutte le bio Che è costretto A vedere E ride Allora Un'altra domanda Diciamo Questo successo È inaspettato Oppure Avevi previsto Che funzionasse E se sì Avevi previsto Diciamo Quello che hai previsto Quanto hai studiato Prima Di metterti Nei social Guarda A rischio Di deluderti Non Essendo un mondo Per me Completamente Sconosciuto Non avevo Modo Di Di avere Una Qualsiasi proiezione Sul Sullo sviluppo Sull'andamento Di questo progetto No Assolutamente È stato proprio E continua Ad essere Casuale Diciamo Anche Cioè Quotidianamente È una cosa Non ho Cioè Ora Cerco di organizzarmi Un po' Però Non è che Ho un piano Definito No Sto Prendo quello Che c'è Guarda Allora Intanto Dicono Accorcia Puoi accorciare L'intervistatore Accorciamolo E Poi dice No Bala Bala Libe Bala 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 Libe Ha già risposto Però È una domanda Che Ti rifaccio Le creator Si arrabbiano? Pochissimo In realtà Ho già identificato La fascia Di creators Che si possono Arrabbiare Quindi Quindi Per me Per me È anche Un modo Di poter Scegliere Se creare Una polemica O no No pochissimo Realmente no In realtà Sono quasi tutti amici Cioè poi Ho quasi Il benestare Di tutti Veramente Che comunque In qualche modo Aumenti La loro visibilità No? Assolutamente Sì Direi Che Le per Poche persone In realtà Sono Come Cercano Di farsi Vedere Con il loro Contenuto Sul canale Quindi In tanti Parliamo Con messaggi privati Oppure Anche Tramite il telefono Qualcuno Mi ha dato Il suo numero Di telefono Come dire Anche Se a volte Può sembrare Che uno Si è Un po' Offeso Eccetera Non è così Non è sempre La verità Ecco Non è così Rimane sempre un gioco Sono molto Molto giocatori Ecco Molto Tranne direi La fascia Ender Twenty One Cioè Meno di 21 anni Diventa difficile Ah Con quelli di Meno 21 anni C'è Difficoltà Sì Sì Perché Non sono Non sono Abituati Ad avere Un Allora Io secondo me Accorciabro Questa è una cosa Che Io ho una figlia Di 22 anni Io ho notato Che non hanno La pazienza Del confronto Attenzione Cioè I giovani Oggi Sono talmente Abituati Ad avere Il telefono In mano Questo schermo Che quando si trovano A doversi Confrontare Diciamo che Faticano E quindi Vogliono subito Una risposta Una risposta Precisa Concisa O sì O no O bianco O nero È questo Che hai Diciamo Percepito Anche te Oppure Ma penso Sì 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 Ha anche Una questione Di maturità Chi è Diciamo In un'ottica Non così Seria Di Di conservare La sua immagine Perfettamente Cioè Di padroneggiare La sua immagine Fino alle unghie C'è Proprio Capisce un po' Non so se riesco A spiegarmi Ho l'immagine in testa Però ho difficoltà Ad esprimerla Ancora una volta No La maggior parte Fanno bene Sono saltanto Sì Questa generazione Un po' Più Giovani Vorrei dire Di duemila Però Ecco Però Io Ho notato Guardando Poi Sapendo di questa intervista Ho cominciato a guardare No Dall'altro giorno A oggi I tuoi video Diciamo I commenti Sotto i tuoi video No E me ne sono andati a leggere Ora Non tutti Su alcuni video Un po' più virali Diciamo Quelli con più E Ho notato Aspetta Aspetta Scusami C'è Paul qua Paul Paul Codio Sì Ciao Paul Ecco Paul Lo salutiamo anche noi Accorciabro ha un nome Sì Però Se lo vuol dire solo lui Altrimenti io non Sì ma l'ho detto già Sull'intervista Di SDL Mi chiamo Rudy Molto semplice Molto accorciato In realtà Rudy È un diminutivo di Rodolfo Ma non mi chiamo Rodolfo Mi chiamo Rudy Quindi sono nato proprio accorciato Già È una famiglia di accorciabro Ecco Esattamente Allora Ti dicevo E leggevo questi commenti No Leggendo questi commenti Mi sono reso conto Che le persone Gli parte il dito Gli parte la tastiera Cioè Nemmeno arrivano Alla fine del tuo video Attenzione Perché si evince Dai commenti Che nemmeno La corciabro Riesce a far ascoltare Tutto il video A uno che comunque vuol Ha qualcosa Dentro Che lo agita E quindi lo deve Dire Ma non si capisce Perché lo vuol dire Perché sicuramente Non ha comprato Il giornale intimo Non ha comprato? Queste persone Dovrebbero scrivere un libro Sicuramente Aprisse un canale Per sfogarsi Allora Non so se Io la domanda la faccio Non so se ti risponde Emma Posso sapere Che lavoro fai? Sì Sono sviluppatore full stack Quindi Web developer Web No Specializzato in realtà In sviluppo di applicazioni mobili Sia Part developer Web No Specializzato in realtà In sviluppo di applicazioni mobili Sia Part Interessante Ma insomma Sì ma no Ma per la maggior parte Le persone Non è che sia una cosa Sintetizzato Sintetizzato Come si Come si può Ridurre Full stack developer Full stack developer Full stack developer E te conosci sei lingue Io Conosco l'italiano E il mare in mano E basta Quindi per me Va già bene Dai Allora Io Naturalmente Ho studiato un po' E poi l'ho anche sentito Privatamente E Devo dire Che è una persona Molto Poi dimmi se è vero Altrimenti Mi puoi smentire Questa non è preparata È molto attenta A quello che dicono Gli altri Cioè Ascolti Tantissimo Te mi hai ascoltato Tantissimo Prima di Di accettare Questa intervista Mi hai ascoltato Sei entrato In una Mia live Hai voluto capire Quello che ero Il messaggio Che volevo portare È così anche nella vita Sì Parlo pochissimo In realtà Anche se non sembra Però sono una persona Che parla pochissimo Che ascolta tanto Quindi Sì Sì Sono così Nella vita Allora c'è Giustamente Mi dicono Accorcia Aspetta Allora c'è On the rocks Che dice Data la tua Attitudine Ad accorciare Secondo me I tuoi antenati Dovevano essere Barbieri O sarti Questa è una battuta Simpatica Però Potrebbe essere Potrebbe Ma Non credo Ma non è Ma non è Ma non è Allora Naturalmente La live Sta durando troppo Tutte le battute Che Giustamente Con accorciabro È normale In In un In un momento Della mia vita Io Ho cercato Di Accorciare Determinati Momenti No Ascoltami Bene Questa è una domanda Molto Intima E personale Hai dei momenti Che Avresti voluto Accorciare Gli ultimi due anni Gli ultimi due anni Posso chiederti Perché Puoi chiedermelo Però Posso anche Non risponderti Certo Puoi anche Non rispondere È normale No Gli ultimi due anni Sono stati molto Difficile Per me È un periodo Brutissimo È difficilissimo Da accorciare Effettivamente Però Sono ancora in piedi Perfetto 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 E Queste Capisco che sono domande Diciamo Alla Bob Gas Sono molto Io Cerco di Capire Cosa Vuol trasmettere Accorciabro Non avendolo mai Visto di persona Non avendolo Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Avremmo modo Di vederci E Oggi Hai fatto Una scelta Mi hai mandato Un messaggio Ti sei messo Il gattino Peloso Qui Sulla Maglietta E Questo mi ha fatto Un enorme piacere Vedere Che Un ragazzo Come Rudy Ormai L'hai detto Il tuo nome Quindi Accorciabro Rudy Mi abbia mandato La foto Come dire Bro Ma è questo Quello che devo Prendere Nel senso Ecco Questa È una Oggi Non la valutiamo Molto bene Non gli diamo Il giusto peso Però A quelli Della mia età Del 1971 Il fatto Di dire Oh Bob Guarda Ho trovato Questo pennarello Che ne dici Noi Quando eravamo Giovani Non avevamo Internet Per interfacciarsi Quindi Il fatto Che oggi Tu mi abbia Chiesto Se questo Poteva essere L'accessorio Che ti può servire Per fare Anche i tuoi video Mi ha fatto capire Quanto Quanto C'è bisogno Di ritornare Un po' A quello Che eravamo Noi Vecchietti Oppure È una cosa Che voi giovani Perché sei più giovane Di me A cui non date peso Questa cosa Del 71 Eh vabbè Potresti Essere Mio padre Giovane padre Però Potresti anche essere Mio padre Puoi riporre la domanda In modo più semplificato Sì nel senso Il fatto Che voi Mandiate una foto Oggi sul telefono No Per chiedere un consiglio Cosa che prima Noi non potevamo fare Eh Ti Ti Nega Il contatto Secondo te Eh Per voi È normale Questa cosa Oppure vorreste anche voi Non potrei parlarti A nome degli altri Perché è molto difficile No no Per te Per te Questo è anche Una delle caratteristiche Del mio autismo È una difficoltà Con l'empatia Quindi Di Mettermi al posto Dell'altro È una cosa Faccio molto fatica Ci combatto Da più di Trent'anni In realtà Però Ti parlerò solo per me No La realtà È che Io mi ritengo Un Un esperto Soltanto Negli ambiti Che padroneggio Ok Questo non è assolutamente Un ambito Che padroneggio Quindi chiedo A chi ne sa più di me Eh Sì Era Per me Era una cosa normale Quando Tocco ad un ambito Qualcosa che Non conosco Non sono assolutamente Il tipo di Persona Di persona A dire A Proclamarmi Esperto Assolutamente Cioè Sono proprio Un principiante E Ho chiesto All'esperto E questo sì Fa parte anche Del mio quotidiano Se mi parli di codice A sto punto Ti potrei dire Non sono un esperto Però sono un middle Ecco Conosco abbastanza bene E ti potrei anche aiutare Se non conosci Però Nell'ambito che Non padroneggio È difficile Ecco Quindi C'è Paul Che dice Accorciabro Ha genialmente Messo in luce In un colpo solo La attenzione Rasoterra Degli utenti E la Verbosità Del creator Del creator Quindi Ha detto una cosa Cioè Hai messo Aspetta Rispondiamo a Paul Poi leggiamo la cuoca La cuoca assassina Perché è anche un'amica E quindi Vuole essere eletta Quindi Cuoca Per favore Mettetela Il commento In Come si dice In evidenza E sarà la prossima Paul Paul è un Inizialmente Era un Non un Heter Però Ha fatto tanto Spamming All'inizio Criticando Un po' Forse non aveva capito Bene L'intento Del Cioè L'andamento Del L'intento Dietro Questo canale Però Mi ha fatto molto divertire Perché Ha questa idea Che è rispettabile Attenzione E questo l'ho anche detto In un'intervista Con gli SDL Quando mi ha chiesto Ma non hai paura Che Già la soglia Della tensione Abbastanza bassa Che la tua opera Venga a dare ancora Una botta A questa Problematica Risponderei Che la mia È un'opera satirica Quindi Ancora una volta Capirà chi può Ha più strati Ok Ci sono diversi modi Di approcciare la cosa Questo potrebbe esserne uno Ma non è Il mio intento Quindi Se È visto così Effettivamente Potrebbe essere Una risultanza Del Del progetto Però Non fa parte Degli strati Che Ho disegnato Dietro questo progetto Ecco Non so se Sembra un po' Enigmatico No 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 Perfetto Hai reso benissimo Una poca assassina Ti domandava Fra poco arriverai Al milione di follower Come ti senti Pensando alla popolarità Allora Al milione di follower Sicuramente Prima su instagram Di tiktok Perché tiktok Mi ha ridotto La visibilità Quasi pari a zero In questi ultimi giorni Sto facendo la mia Sto finendo la mia inchiesta Ho capito tante cose In realtà sbagliate Che Sbagli che ho fatto io Però si riprenderà Quindi più piano Popolarità Non è una parola Che fa parte Del mio vocabolario Quotidiano Quindi Non ti saprei rispondere Non ti saprei dire Se Sicuramente La vivrei Difficilmente Questa è una cosa Conoscendomi Il fatto di essere Esposto così Non fa assolutamente Pace Prima di Prima di Accorciabro Era molto difficile Trovare una Qualsiasi informazione Mia sul web Perché Non sono Il tipo di persona In prima scena Ecco Sono dietro Anche nel lavoro In realtà Quindi Non direi che mi sto preparando Ma mi sto circondando Ecco Sto avvicinando a me Dei professionisti Come te per esempio Che mi possono essere di consiglio Perché È un ambito Che non padroneggio Assolutamente Ecco Allora C'era Una Una richiesta Ma sai Che non mi ricordo Di averti mai visto Senza cappello Lo puoi togliere Eh no Però ti posso rimandare A A qualche video Anche recente Quindi rimando sul mio profilo E guardare tutti i video Perché ce ne sono Ce ne sono una decina Senza cappello Allora Come mai Dicono Eccolo qua Eccolo qua Ecco Eccolo qua Senza cappello Eh dai Dai Un bel ragazzo Un bell'uomo Eh Allora Ci sono due domande Una è che Io non so rispondere Perché Ma perché non hai più visibilità Su TikTok Allora Le cose che ho identificato io Sono diverse Inizialmente Essendo ancora una volta Lo ribadisco Perché per me è importante Ridare il giusto valore Alle persone Non sono assolutamente Un esperto Dei social E quindi ho fatto Sbagli di principi Anzi Era di pubblicare I primi video Con Con Il logo di TikTok Insomma Scaricando il video originale Direttamente da TikTok Senza Passare Tramite È un consiglio che ti ho dato Ricordati Giusto Giusto Ci ho lasciato Nel numero che ho fatto E ti l'ho fatto approfittare E Quindi questo Già mi ha ridotto Un po' la visibilità Non è che mi ha ridotto Direttamente Però Molti video Non erano idoni Per i per te Ecco E questo l'ho visto dopo Perché non è che ti dà una notifica TikTok Devi andare Nel Nel Insight Di Ogni Ogni singolo video Per andare a vederlo E ho fatto una bella pulizia Purtroppo Su TikTok Non ci sono tutti i video Ci sono su Instagram Perché non è la stessa politica Però ho dovuto Togliere tante cose Seconda cosa Ho preso un avvertimento Da TikTok Per Non mi ricordo più Com'era Insomma Per sessualità Una ragazza Che avevo tagliato il video Perché si Faceva la domanda Sulla grandezza Delle Delle sue Delle sue Delle sue Mammelle Ecco Scusatemi il termine Ho dovuto dire La prima cosa che mi è venuta Anche se è odioso Però Vabbè E mi è stato rimosso il video Quindi Questo è rientrato anche Nei requisiti Di ciò che non farò più Tutto quello che riguarda Da lontano vicino La sessualità Perché è una cosa Che visibilmente Non piace a TikTok Poi C'è anche Un'altra spiegazione Che sicuramente È un po' più tosta Il 26 febbraio Hanno tolto il Creator Fund E Stanno spingendo Perché arriverà Il nuovo Fund Creators Che spingerà I video più lunghi Quindi Tutto quello E' un peccato Perché Inizialmente TikTok non nasce Per questo Però vabbè Quindi Penso Che TikTok Con l'aggiornamento Dell'algoritmo Che è stato Fatto due settimane fa Ha anche Considerato questo Quindi Mi sto già preparando In realtà Certo Stai preparando La tua strada Sì Ma piuttosto che pubblicare Tre quattro volte Su TikTok al giorno Pubblicherò soltanto Una volta Però saranno Compilation Ecco Certo E poi c'è anche Il fatto di aver pubblicato Tantissimo Come un principianto Ancora una volta Ho pubblicato 5, 6, 7, 8, 10 video Al giorno E sono stato Nei radar Di TikTok Per spamming Ecco Quindi Mettendo tutto Questo insieme In realtà Mi ha dato Una ralentata Da TikTok Brutta Però Siamo fortunati Perché in Italia Instagram va molto meglio Di TikTok Cioè La fascia d'età Che Usa TikTok In Italia È molto È under 21 La maggior parte Quindi Instagram C'è Un Un social Diciamo che in Italia Ha più posto per adesso Sulla Mia mira Perché La mira del pubblico Cioè Chi miro con I miei video Sono più persone Che riescono a capire L'opera satirica Cioè Di un po' più mature Anche se ci sono giovani Molto intelligenti Che riescono a capire Il doppio senso A volte Eccetera Però Ecco Ho risposto Perfetto Allora C'è Nereo Che dice Diceva Un po' Di commenti fa Come si chiamano Gli accorciabro Negli altri paesi Allora C'è Un Mio caro amico Che è in Francia Però Lui lo fa In Stati Uniti Che si chiama Get the pun bro Quindi lui è un amico amico Poi C'è uno in Francia Che ha scopiato Che si chiama Habreche frère Francese Che in realtà Letteralmente vuol dire Più o meno la stessa cosa Di accorciabro C'è Usat Mabirader Non so se lo pronuncio giusto Però in turco Che vuol dire anche Accorciabro In turco Lui va fortissimo C'è Le Katser In Israele C'è Aspetta Insomma c'è una lista In Germania Non mi ricordo più È un nome un po' Un po' tosto Per noi Italiani Non mi ricordo più Come si chiama C'è una ragazza In Spagna Che lo fa molto bene Sta crescendo di brutto Non mi ricordo più Il suo nome Si chiama Carla Di nome Però non mi ricordo più Il suo nick Insomma Un po' di cose Ecco Allora Polklo Kodio Dice La sludge content I video split screen Con più video Nella stessa schermata È questo il nuovo trend Che sta andando adesso Non ho capito Allora Sicuramente Non lo so Leggere Bene Allora Slugge Content Sludge I video dove Sopra c'è il video originale Sotto fanno vedere altro Ha visto quei video divisi in due? Sì Sì C'è ho visto Sì Per carità Ormai non vado neanche più Nei per te Perché con tutti i video Che ho in attesa Da followers Che mi mandano ogni giorno Sì ho visto un po' Non lo so Bisogna fare delle prove Bisogna testare Io prendo tutti i consigli Amico Cioè tutto quello In realtà siete voi A Corcia Bro Siete voi a dare i consigli Quindi Una delle ultime mie domande Poi se lasciamo un attimo Scorrere il rullo Io ti volevo chiedere Nel momento in cui capirai Che Diciamo A Corcia Bro Sta facendo bene Che sarà a Corcia Bro O qualcos'altro E vedi che c'è un Un ritorno No? Diciamo Economico Te la sentiresti Di È una domanda che Facevo anche all'epoca In pandemia Te la sentiresti Se vedi partire In modo esponenziale Questa realtà Ti lasciare La tua realtà Lavorativa? Molto difficile Molto difficile Per Per diversi punti Il primo È che Ho in sospeso Diversi cantiere A livello Personale Cioè Personale Professionale E non posso abbandonare I clienti Al giorno Domani Perché non sono più Che clienti In realtà Sono persone Con chi Che aiuto Nella loro realtà Professionale E che non posso abbandonare Così Quindi Ci sarà un crescendo Sicuramente Non sarà Così radicale Poi Ho una vita Di famiglia Che Non mi consente Di Completamente Dedicarmi A Questa vita Quindi Non lo so Non ti saprei rispondere In realtà Sull'ambito Lavorativo Sì Io sono pronto A fare tutto In realtà Anche se i cambiamenti Non è che Mi piacciono così tanto Però Non abbandonare Ciò che è già in corso Questo è sicuro Ci sono anche Delle deadline Anche un po' lunghe Ci sono dei cantieri Su quali sto lavorando Che finiscono A fine 2024 Inizio 2025 Che non posso Abbandonare così Cioè Non posso A dire ai miei clienti Guarda Ecco Mi sono scoppiati i social E ora Ti abbandono Trovate un altro sviluppatore No È così Ho troppo onore Questo per Per fare una roba del genere Ecco Allora Io Nel mio Canale social Qui su TikTok Ma su YouTube Creo Creo contenuti Con i droni No? I droni Le action cam E realizzo Diciamo Contenuti Di profilo Diciamo Non ti dico Turistico Ma informativo Mi sto rendendo conto Che Purtroppo Questi contenuti Non vengono Spinti Perché poi L'algoritmo Sicuramente Ma ti pensi Che Veramente TikTok Voglia basare La sua Crescita Il suo Futuro Su Contenuti Permettimi Vuoti No Non credo Anche Lì Ho avuto Uno scambio Un po' Caldo Nei commenti Con un ragazzo Che mi diceva Sì Ma TikTok È tanto È soltanto Video di intrattenimento Senza senso Eccetera Non è vero Ho visto Anche dei video Su TikTok Nel Mio ambito Di interesse Sulla fisica Quantistica Sulla matematica Di alto livello Eccetera Quindi no Ci sono Esistono i creators Di Di contenuti Non vuoti Ma penso Che Come ti dicevo L'altra sera L'algoritmo Di TikTok È furbo E ti conosce Meglio Di quanto Tu ne possa Immaginare Più che Una storia Economica Sul cambiamento Dell'andamento Di TikTok Come stanno Cambiando Indirizzando Verso i contenuti Un po' più lunghi Eccetera Anche sull'intervenimento Tutto questo C'è una Volontà sociale Una realtà sociale Ecco Che è ben diversa Da TikTok A noi europei Con la nostra cultura Questo bisogna integrarlo Certo C'è la realtà Cinese In realtà Perché Così Dobbiamo chiamare Gli obiettivi Gli obiettivi Della piattaforma Non Non sono esattamente Come Come Cosa Siamo abituati In Europa E in Italia Quindi non penso Si possa parlare Soltanto Di Volontà Di spingere I contenuti Vuoti Eccetera La cosa è ben più profonda Secondo me C'è una Penso ci sia Una Una Guerra Di Di alto livello Che si sta Svolgendo adesso Fra Facebook Google I vari Social Che Scappa dal nostro Controllo E della nostra Consapevolezza Ecco Quindi Direi che L'unica cosa Che possiamo Patroneggiare E di spingere Sempre del contenuto Di qualità Per il pubblico Una cosa che ho Sperimentato Non solo con TikTok Perché alla fine Sono nuovo In questo In questo Mondo E che Spesso Nella vita Le cose Che piacciono A te Le cose Che trovi Belle Le cose Che ami Sono proprio All'opposto Di ciò che piace A La tua Community O a Chi vorresti Che sia La tua Community E' importante Questo Certo E questo Bisogna Considerarlo Quindi avere Un'umiltà Assoluta Che tu hai Già Quindi Di avere La possibilità E di accettare Di poter Cambiare Le cose Di essere Ad ascoltare Chi ti segue In realtà Ecco Penso che Il segreto L'unica L'unica parte Del segreto Che possiamo Padronizzare È quella Di fornire Un contenuto Di qualità E di essere Di ascoltare Di ascoltare Chi ti segue Di ascoltare Un minimo consiglio Non è così facile Da accettare Che una cosa Che piace a te Sicuramente Non piacerà L'ho anche Sperimentato Su tiktok Recentemente Quando vedo Che i video Che vanno più forte Non sono assolutamente I video Che pensavo Andassero più forti È vero È vero Quindi Questa è una realtà Che ti piace o meno È così Quindi Infatti Dice La regina Del Los Gitanos La reina De los Gitanos È una grande E anche lei È un'amica Ma come mai Il tuo format Ha avuto successo Dice Da un ben Penso Per la La novità Che ha Che ha portato Sul tiktok Italia In realtà Sperimentare Subito Penso Per la novità Penso Per Inizialmente La costanza E l'ascolto Diciamo che Sono stato dietro All'inizio A rispondere Ad ogni commento Eccetera Anche sbagliando Mettendo dei like Ovunque Senza guardare Nemmeno il contenuto Questo Ha scatenato Anche l'inferno Però E Diversificando Se guardi bene Cioè In Francia La corciabolo francese Ricco Per poterlo tagliare Per poterlo tagliarlo Deve andare Girati verso una donna Appunto Per carità Ci sono anche Dei uomini Che fanno Un lavoro Molto ricco Però La realtà è quella Io ho scelto Diversificare Sin da subito Quindi Ti trovi Che sia Non soltanto Sulla La questione Del sesso Ma ti trovi Sia la donna Che ti racconta Che ha venduto la casa Che Il 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 ragazzo Che si sta truccando E che ti Chiede quanto costa Il suo trucco Che Ora ho fatto un Geopop Che è un Divulgatore scientifico Che Cioè La realtà è la diversificazione Così Riesci a Interessare Il massimo di persone Allora Sempre Da Home Ben Ma immaginavogli Che saresti Andato Così Popolare Cosa hai detto? Se Ti Ti saresti mai Immaginato Di diventare Così Popolare No 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 Assolutamente no Ho già risposto All'inizio Per me È un mondo Sconosciuto Quindi Partito come Ah Perché Perché Un secondo Perché ho avuto Un messaggio Da tiktok Che mi dice Che c'è Un'inattività Nella live Ok Perfetto Scusatemi Quindi dicevo Per me è un mondo Sconosciuto E è partito Come un gioco Quindi No Non era previsto Non ho Non ho immaginato L'effetto Che E ancora Ad oggi Per me Quando Parlo con Persone Anche con mia sorella Che è una generazione Inferiore alla mia Che è Sui venti Nivelli di Qualcosa E lui dice Ma ti rendi conto Tutti questi follower E tutto Dovresti essere felice Ma Io non me ne accorgo Per me è una cosa Cioè non ha cambiato niente Nella mia vita In realtà A parte che dicevo 50 mail al giorno Però Una di Bob Gass E vabbè E È vero Però Nella tua comunità Dove Allora Uno dice Una Clacla Dice Può rispondere Credo tranquillamente Qualcuno sa Se è fidanzato Basta domandarlo a lui Sei fidanzato È sposato È sposato Quindi ha fatto già Il successivo passo È sposato E ho tre figli Quindi guarda Ho già fatto il lavoro Perfetto Ti sei già sistemato Per benino Diciamo Hai sistemato La Diciamo Il tuo ambiente familiare Nel momento Che te Hai avuto Questa esplosione Di successo Nella tua comunità Non nella tua famiglia Non nella tua famiglia Ne parlate Ne parlano I tuoi amici Conoscenti Dei amici Ne ho pochissimi In realtà Come tanti Autistici Facciamo fatica Fatica Sì Ne ho qualcuno Effettivamente Anche i colleghi di lavoro Però Diciamo che Faccio una separazione Comunque Con ciò che succede Sul virtuale Che è invece di In confronto Alla mia vita reale Ecco Faccio una Riesco a A frammentare A separare Le cose Quindi non Ne parlo Troppo Non Non ho questi Argomenti Allora Qui mi chiedono Se sono di Livorno No E a Livorno De E parlano Sì Io so Toscano Io so Di Grosseto Senti che sei Toscano No Sì Però Livorno Grosseto Diciamo Io sono Di Grosseto Allora Guardiamo se ci sono Altre Domande Quanti anni hai L'ha detto prima Se lo vuoi ripetere Se non ti scoccio Ho superato i 30 Ormai non si dice più Non si dice più Ormai è troppo Anziana Per Per dire L'età Allora Aspetta Allora Puntano i capelli Bianchi ovunque Allora Confermo la prima impressione È un ragazzo umile Ed educato Bella live Complimenti ad entrambi Grazie Atena Grazie Grazie E poi Adè 120 km Allora Sei di Livorno Shack Bella la Toscana Vi ringrazio Io avrò modo Di andare A trovare Accorciabro Vi porterò Un presente Dalla Maremma Perché So Oppure Verrà lui giù Con la famiglia E andremo A degustare I piatti tipici Della Della nostra Maremma Posso sapere Che lavoro Fai Programmatore Software Mi sembra Di ricordare Ecco Diciamo di sì È un pochino più Te No In realtà Sono specializzato In un Linguaggio particolare Che va molto Forte Attualmente Che si chiama Il Flutter Però Sì Sono Sviluppatore Di applicazione Per cellulari Ecco Allora Accorciabro Siamo arrivati Non già va Flutter Flutter Ecco Un'altra Un'altra generazione Un'altra generazione Allora Accorciabro Rudy Io La live È durata un'ora Io ti ringrazio Per l'opportunità Che mi hai dato Di poterti Conoscere meglio Di poter conoscere Sicuramente Una parte Di Accorciabro Molto più Personale Permettetemi E Sicuramente Chuck Io Non so Se vuoi Dire Alcune cose Te in chiusura E poi Chiudo la live Cioè Chiudo Ma chiudi te Io so l'ospite Chiudiamo l'intervista Se vuoi aggiungere qualcosa E poi Un piccolo Una mia piccola Riflessione A voce alta Come faccio In tutte le mie live È difficile Chiedermi di aggiungere qualcosa Senza Farmi una domanda Con precisazione Questo fa anche parte Delle specificità Dell'autistico Sperger Se lo devo dire Ecco Quindi Fai tu Allora Un'ultima domanda Accorciabro Oggi Nel 2024 Siamo sempre più Dipendenti Da questi Aggegini La dipendenza È diventata virale Permettimi È diventata virale Con il coronavirus Secondo te Spegnere questi Aggeggi Oggi Ci potrebbe salvare Domani? Sicuramente Va contro di me Questo Perché Io sviluppo Applicazioni Per questi Aggeggi Però Sì Sono convinto Di sì Sicuramente E ora Sto parlando Non come accorciabro Ma come papà Di tre bambini Il cui La più grande Ha quasi undici anni Quindi Non sono Un marino Di primo viaggio Se posso dare Cioè per me Questi Aggeggi Sono la Rovina Non della Nostra generazione Ma della Generazione Di Chi ha l'età Delle mie figlie Oggi Ecco Quindi sì Ne sono consapevole È un paradosso Però Sì Ci possiamo salvare Soltanto Facendo questo Secondo Allora È un paradosso Perché È un paradosso Certamente Lo sai Le mie domande Sono un pochino Più complicate No Quindi Eh Vorrei lasciarvi Eh Con un mio pensiero Oggi Eh Metaforicamente Parlando Incontriamo Tante persone Per la strada Incontriamo Tante storie Tante vite Però Queste vite Sono Completamente Assorte Da Un telefono Cellulare Basterebbe Per un attimo Un giorno Alzare gli occhi Di qualche grado Per vedere La bellezza Del mondo Che abbiamo Intorno a noi Un consiglio Che vi posso dare Alzate gli occhi Al cielo E vivete I vostri Tramonti E le vostre Albe Un saluto a tutti Da Bob Gas Grazie A Corciabro Ciao Grazie a tutti Ciao